Meno male, meno male, meno male, non ci credo, niente paura, niente paura, oggi 18 dicembre 2019, come si fa? Guardate, guardate, state a guardare, potete guardare un po', un spettacolo. Guardate, 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 guard No, ho sbagliato, così, ho sbagliato, un spettacolo, un spettacolo, un spettacolo, anche per dicembre, anche per la fine dell'anno, no, quasi, sono cinque righe, sono tanti Guardate un po', si può continuare, non è stata una cosa terribile, quasi nel pomeriggio, eh? Qua è nel pomeriggio, non è tutte le bolle, vediamo un po' come si fa, un ottimo tocco no vero, quel colpo terzo posto va così, eh? Ancora di più, ancora più avanti, eh? 233 ho sbagliato sono tre, l'ho fatta per poco, rimangono solo, solo due gufi da liberare 4 3 2 1 così no 2 per poco per poco rimangono solo due gufi da liberare 5 4 3 iniziato su 20 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 22 23 Così? Sette minuti? Così? Forte! No! Sette minuti! Sette minuti! Cinque! Cuatro! Tres! Due! Uno! No, no, no! Solo 10 bolle da eliminare! Quattro! Quattro! Si tronci bene! Oh! Si continua! Aspettacolo! Oh! Si va avanti! Forte! Eh... Che... Vabbè, vabbè... Pensiamo a qualcosa... Eh... Parliamo! Commenti? Qualcosina? Si! Si va! Che a sperare! Fare con qualcuno! Fare festa! Di più! Cosa? Qualcosa! Eeeh... Via! Eh, ce la facciamo? Ce la faremo un po' Maldizione 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 La nazione C'è un peccato? C'è un peccato che Cosa? Non ci credo Bolle assaurite Se esci perderai Il pin d'oro Maldizione Cosa? Peccato 3 2 1 Peccato Niente incubo Per poco Rimangono Solo 21 bolle Da eliminare Peccato Grazie per la visione!